Aggiornamento Fiona. Come sapete, qualche giorno fa, la piccola Fiona non è stata molto bene. Infatti, a causa di un problema alla vescica natatoria, aveva difficoltà a nuotare correttamente, finendo in alcuni casi addirittura capovolta. Per risolvere questo problema, ho deciso di abbassare il livello dell'acqua e di farle fare un digiuno di circa tre giorni. Finalmente, dopo una settimana, la piccola Fiona sta molto meglio. Infatti, come potete osservare, riesce a nuotare e a mangiare normalmente.